E' un'altra di quelle piccole e grandi conquiste che l'era, potremmo dire quasi post-Covid, ci sta regalando. La Maratona di Pescara è riuscita a non fermarsi l'anno scorso, che era uno dei pochissimi eventi più importanti in Italia, ad andare avanti, ad attuare un protocollo che poi, devo dire, abbiamo dovuto raccontare in giro per tutta l'Italia perché è stato veramente formidabile, sia nell'implementazione sia nel risultato. Ricordo che non c'è stato nessun caso di positività, nessun tipo di problematica, si sono rispettati nonostante tutti i controlli e tutti i parametri. Quest'anno invece abbiamo, grazie a Dio direi, il problema inverso perché tutta l'attività podistica, gli sport all'aperto individuale sono ripartiti, quindi abbiamo un sacco di concorrenza, ma ancora una volta continua a crescere nei numeri e diciamo proprio nel gradimento. Novità di quest'anno? Tra le novità di quest'anno, lo voglio dire perché tanti ancora lo chiedono, abbiamo reinserito la staffetta che l'anno scorso avevamo dovuto togliere proprio per cercare di limitare le tante iscrizioni, quest'anno siamo riusciti a reinserirlo, chiaramente peserà sul bilancio totale perché abbiamo dovuto limitare le iscrizioni sulla mezza e sulla maratona, però è stato veramente un bel reinserimento e altra cosa molto bella che secondo me l'abbiamo provata l'anno scorso con numeri esigui data proprio l'andamento dell'anno scorso che era completamente diverso e lo riproporremo quest'anno l'anticipo della gara bambini e della passeggiata al sabato, quindi sabato pomeriggio a Piazza Salotto, dalle ore 17 alle ore 18 ci saranno tutte le gare bambini e ci potremo finalmente dedicare, tutta l'organizzazione si potrà dedicare a fare il meglio per i nostri piccoli, poi partirà la passeggiata che ricordiamo raccoglie fondi per ISAV e l'ILT, domenica poi saremo tutti in strada per la parte agonistica. Quanti partecipanti sono previsti? Allora il numero massimo è di mille persone per tutte le attività agonistiche, quindi maratona, mezza maratona e staffetta e già da qualche giorno abbiamo raggiunto, di fatti abbiamo chiuso le iscrizioni, stiamo cercando di recuperare qualche chip ma senza andare troppo oltre perché è quello il numero per i quali gli spazi e anche l'organizzazione è pronta a sostenere un risultato che possa essere il migliore possibile.